La sussidiarietà è un impegno concreto, è un'azione concreta. In questa città, posso testimoniare anche per la mia esperienza, che ci sono molte azioni di sussidiarietà. Di recente abbiamo approvato come Comune un regolamento per i beni comuni con il quale condividiamo con cittadini, associazioni, anche singole persone, una cosa che abbiamo chiamato patti di collaborazione. Ce ne sono già oltre mille in città, da ripulire i muri, a prendersi cura di un giardino, a ristrutturare un edificio, a fare un centro d'ascolto come questo, il Comune sostiene queste iniziative, concorda con i cittadini e le associazioni interessate cosa fare, ne apprezza l'utilità pubblica e quindi li sostiene in diverse forme, o in denaro, o in materiali, o in concessione di luoghi incomodato o gratuito. Le modalità possono essere le più differenti. Noi pensiamo che questa sia una sussidiarietà molto utile, perché riteniamo che le cose fatte direttamente come cittadinanza attiva dalle persone siano molto più efficaci, in alcuni casi, di quelle calate dall'alto o fatte semplicemente attraverso i nostri uffici comunali. Grazie.